Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche generali per la prima parte di febbraio 2023. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Leone. Quando c'è la temperanza si parla di pazienza, di pazienti, nel senso di essere in una fase di attesa per una futura guarigione. Può anche parlare proprio di una guarigione, di una, come si dice, convalescenza, proprio da un punto di vista fisico. Però normalmente quando compare la temperanza è perché si parla di riequilibrare quello che è il lato emotivo con il lato mentale, il lato, quello che si dovrebbe fare, quello che razionalmente, diciamo così, si dovrebbe fare, quello che in realtà poi vuole il cuore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non doveste risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o venere. Sotto, nella descrizione del video, trovate poi il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi e trovate anche altri link a video che potrebbero interessarvi. Per quello che riguarda la mia mail, invece, ho preparato questa fantastica slide, ve la metto qui, questo è l'indirizzo mail, potete anche fare lo screenshot. E adesso cominciamo con la vostra lettura. Allora, abbiamo un otto di spade, un due di denari, un quattro di denari, un cinque di coppe, un due di spade, un fante di spade e la carta del papa. C'è una sorta di sensazione un po' ambivalente qui nella prima parte della lettura, come la sensazione che siate in una situazione dove siete consapevoli di non essere felici, di non essere appagati. Probabilmente quello di cui parla la temperanza è una guarigione di tipo mentale. Lotto di spade è una carta che, letteralmente, è una carta di autosabotaggio, di gabbie mentali, di qualcuno che vede più negativo di quello che è. E vedendo queste due carte come se stesse cercando di destreggiarvi in più situazioni, o magari è anche proprio una questione di sentire di non aver tempo per far qualcosa, di conseguenza si rimane un po' aggrappate il tipo di realtà che si ha, anche se nonostante tutto c'è questo cinque di coppe, quindi si sente che manca qualche cosa, c'è una sorta di vuoto. Interessante perché poi abbiamo un due di spade che indica il bivio, il due di spade è una carta di dubbio, una carta che in realtà la figura è rappresentata bendata, quindi è come se vi volesse far presente che non si vedrà tutto, non avrete tutto chiaro, non avrete tutto così sott'occhio, ed è per quello che poi abbiamo questo fante di spade, che è una carta che invita a controllare, a tenere d'occhio, a sorvegliare, ad approfondire certi studi, certi temi. E poi qui abbiamo la carta del Papa, che è un po' come se arrivasse in qualche modo, ad un certo punto, quello che è una presa di consapevolezza, quello che è una comunicazione, può anche fare riferimento a una persona, una guida spirituale, però qui o come è la sensazione che qui qualcuno riuscirà a capire dove è il bandolo della matassa. Andiamo a vedere carta per carta, di spiegare un pochettino meglio. Andiamo a vedere l'otto di spade, abbiamo un 6 di spade e un 7 di spade, ragazzi, 6, 7 e 8. Qui ho come l'impressione che ci sia qualche pensiero, qualche forma pensiero, qualche credenza che può essere o meno legata a voi, nel senso il vostro modo di valutare voi stessi, o il modo in cui gli altri vi hanno insegnato determinate cose, no? Perché comunque quando c'è il 6 di spade è sempre una carta che parla di famiglia, di quello che si è imparato durante l'infanzia e cose di questo genere. Ma il 7 di spade è una carta, non lo so, è come se qualcuno qui fosse attaccato a un certo tipo di materialità e non si rendesse conto che per star dietro questa materialità si sta sacrificando una parte di se stessi. È per quello che c'è la temperanza, bisogna riportare in equilibrio. Andiamo a vedere il 2 di denari. Regina di coppe e giudizio il contrario. Io ho come la sensazione, ripeto, che qualcuno vi abbia insegnato determinate cose e voi siete arrivati ad un punto dove semplicemente fate quelle cose che vi sono state insegnate ma non vi rendete conto che non sono utili per voi. Il 7 di spade molte volte parla di qualche tipo di proiezione che voi avete. Per qualcuno si tratta di allontanarsi da un ambiente tossico, da un ambiente che voi sentite come negativo per voi stessi, ok? Vi dico, c'è una regina di coppe, quindi potrebbe fare riferimento o a un qualche questione legata a vostra madre o al vostro modo di essere madri, anche madri di se stessi, nel caso non abbiate figli. Qui c'è qualche questione, qualche cosa che si ripete, un ciclo che si ripete e difatti la carta del giudizio è al contrario, non c'è questa chiusura ciclo, non c'è questa comprensione, questo equilibrio di cui ci parla la temperanza. Andiamo a vedere a cosa si è attaccati. Decisamente qualche cosa che riguarda l'infanzia, perché ci sono due carte che parlano di bambini interiore. Io credo che sia qualche paura legata a paura, perché c'è un 9 di spade. Il 9 di spade parla sempre di un dolore che si sta ancora vivendo in realtà, anche se la fonte del dolore non c'è più. Però qui lo vediamo, no? Io sento che si arriva da una situazione un po' pesante. E qui, allora, per qualcuno questo 4 di pentacoli può essere l'attaccamento ai propri figli, perché comunque sono due carte, sia il mondo che la carta del sole, che parlano di bambini e parlano anche di bambini interiore per qualcuno. Quindi ho come la sensazione che questa cosa sia ben ben radicata dentro di voi e che abbiate bisogno di trasmutarla. E con queste due carte sento che è qui il nocciolo della questione. Andiamo a vedere il 5 di coppia. Può essere che ci siano dei bambini in mezzo, eh, e che quindi sia difficile prendere certe decisioni del 2 di spade, proprio perché ci sono dei bambini in mezzo, perché non li si vuole far soffrire. Il 5 di coppa è il contrario spiegato. Il 9 di coppa è il contrario della sacerdotessa al contrario. Ecco, ragazzi, qui molte persone non stanno ammettendo con se stessi che non sono felici. È come se vi, vedete, ho l'idea che vi stiate raccontando la bugia del... tutte le relazioni sono così, che sia relazione di lavoro, che sia relazione di amicizia, familiare o romantica è uguale. Voi avete un certo tipo di convinzione inerente alle relazioni e non ammettete con voi stessi, non date voce a quello che è il vostro malessere. Vi rendete conto che non state bene, che non siete appagati al 100%, che non è così che l'avevate sognato, però in un certo senso, avendo anche la sacerdotessa al contrario, non date retta alle vostre... è come se... non lo so... nascondere il vostro malessere a voi stessi con queste bugie, dicendo frasi come... in tutte le relazioni ci sono gli alti e bassi, piuttosto che non si può essere felice tutti i giorni, o cose di questo genere. È un po' come se vi cercate di consolarvi in realtà con queste affermazioni, però è un po' come nascondere il dirvi delle bugie il fatto che in realtà non state proprio bene. andiamo a vedere il 2 di spade. 3 di pentacoli e 4 di coppe. voglio andare a vedere anche il fante di spade. Abbiamo nuovamente un 2 di spade, nuovamente un 8 di spade, matto al contrario e la ruota della fortuna, non male. Difatti poi si termina con il papa. Sì, qui di nuovo mi è chiaro, abbiamo queste energie qui, riassunte qui. Ed è un po' come se, diciamo, comportandovi da fante di spade, quindi cercando di controllare meglio, cercando di tenere gli occhi aperti, andando a fondo e direi anche nutriendo un certo sentimento di diffidenza nei confronti degli altri, vedrete che le cose cambieranno. Sarete più in connessione con voi stessi e con quelli che sono, sento i segnali, ragazzi vi arriveranno dei segnali. Adesso siete ancora in una fase un po' troppo negativa per riuscire ad avere questa parte di ascolto e di percezione, diciamo, attiva, ma nella seconda parte del periodo, quindi verso metà febbraio, questo sarà un po' più possibile. Perché in un certo senso ho come l'idea che qualche questione legata a un progetto, legata a una casa, legata ad una collaborazione, in qualche modo si scioglierà, si scioglierà quest'idea che avevate prima, positiva o negativa che fosse l'idea, è un po' come se vi rendeste conto che le cose non erano come credevate, giustamente, è un po' come se prima aveste avuto gli occhi bendati, ecco. Andiamo a vedere il Papa. Due di pentacoli nuovamente e cavaliere di bastoni. La cosa positiva con questo due di pentacoli al contrario è che siete usciti dal ciclo, ok? C'era anche la ruota della fortuna, è finito il ciclo che avete vissuto fino adesso, può essere stato un ciclo di sofferenza, di bugie, di anche impotenza per qualcuno, ma rendetevi conto che questa, guardate, il Papa è il Papa, questa impotenza è dovuta ad un vostro attaccamento, a qualche cosa a cui voi siete attaccati e ripeto, può anche essere una casa, la vedo in diversi punti, è come se qualcuno non volesse lasciare magari il luogo dove ha vissuto o una casa nello specifico. Però si esce da questo ciclo e con il cavaliere di bastoni, che vi dico potrebbe essere una persona che in qualche modo entra ad aiutarvi, mi verrebbe da dire, in modo anche deciso e determinato, non necessariamente deve essere una persona laterale alla situazione lavorativa piuttosto che familiare, anzi in realtà ho come la sensazione che potrebbe essere una persona che conoscerete in qualche centro pubblico, in qualche luogo ricreativo mi viene da dire, e che potrebbe comunque aiutarvi a manifestare questa temperanza, quindi a manifestare questa guarigione, questa comprensione, perché poi alla fine ce l'avete, la carta del Papa, quindi i segnali arrivano, si esce da questo ciclo, si inizia a vedere più chiaro e con il cavaliere di bastoni, se non è una persona che potreste conoscere, potrebbe essere l'attitudine con cui voi inizierete ad affrontare la seconda parte di febbraio. Diciamo, una volta avvenuto questo cambiamento, una volta tolta la benda, si inizia a vedere la trasformazione, ok? Bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per gli amici del leone, per questa prima parte di febbraio. Wow, guardate, avevamo la ruota della fortuna, nuovi schemi, nuovi cicli, avete imparato qualcosa o imparerete qualche cosa, ci sarà un piccolo salto di consapevolezza in questa prima parte di febbraio, ragazzi. Parla, è una carta numero 8, è una carta che parla di infinito, vediamo se qua si vede con questo 2 di pentacoli, vedete che l'8 è come questo disegno che fa proprio riferimento ai cicli karmici, ai cicli che si ripetono, in realtà il simbolo dei matematici dell'infinito, no? Come per dire che l'energia infinita e le cose si riperpetuano all'infinito. E qui si tratta proprio di capire qual è lo schema e di uscire dallo schema fondamentalmente. Bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura possa esservi stata di ispirazione, se volete farmi sapere che appoggiate il mio lavoro potete sempre mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, commentare, ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che si prendono un attimo per scrivere un commento, insomma. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!